È stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di legge sul terzo settore che intende promuovere e sostenere gli enti del terzo settore definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nella programmazione regionale di progetti e disciplinando la loro collaborazione con la pubblica amministrazione. Un mondo, quello del terzo settore, che in Toscana è fatto di 430.000 volontari e oltre 60.000 addetti, protagonista in tante attività e iniziative di solidarietà e beni comuni. La legge riconosce al settore del volontariato questi diritti di partecipazione ai progetti, a fare i progetti e anche a coprogrammare. E in più si istituisce una consulta regionale che ha il compito di fare proposte ma anche di esprimersi sulle proposte della Giunta e sugli atti fondamentali. Una proposta di legge che contiene una serie di principi che sono per noi fondamentali per dare sostegno e aiuto al mondo del volontariato e per dare anche una cornice legislativa a tante amministrazioni locali che abbiano bisogno di trovare una sponda normativa per relazionarsi in un modo un po' diverso con il mondo del terzo settore. Una legge frutto di una concertazione tra i soggetti più rappresentativi del terzo settore a partire dal forum ANCI, esperti del mondo universitario e riguarda oltre 6.500 enti tra volontariato, promozione sociale e cooperazione che operano in Toscana.